Andy Warhol, a Palermo la mostra che celebra l'artista della pop articolo. 166 soggetti tra opere uniche e inediti che ricostruiscono il percorso artistico dell'icona della pop art americana Andy Warhol. Fino al 7 gennaio 2018 la mostra a Palazzo Sant'Elia a Palermo. Un allestimento suggestivo per la mostra Andy Warhol. L'arte di essere famosi che celebra lo straordinario artista grazie al lavoro della Rosini Gutmann Collection che mette insieme il percorso artistico e quello iconografico dello strepitoso artista. Dal Gold Book, realizzato da Warhol per la Baudelaire Gallery di New York al libro di ricette di Suzie Farkfurt, Vidrasp Berries, realizzato con l'aiuto della madre Julia Warhol. Ancora, non mancano i soggetti più famosi degli anni 60, 70 e 80, dal mito di Marilyn Monroe e al fascino di Liz Taylor, dalle storiche bottiglie di Coca-Cola alle leggendarie lattine di Zuppacamp Bells fino ad arrivare a Flowers, Mao, Mickey Hedger, Lizza Minnelli, Joseph Beuisse e la Diesen Gentleman. Tutto con l'obiettivo di far conoscere Andy Warhol secondo una prospettiva diversa, focalizzando l'attenzione sulle opere che rappresentano di più la sua sfera intima sia dal punto di vista intellettuale che artistico. Fra le opere inedite provenienti dalla Rosini Gutmann e Andy Warhol Collection ci sono gli Space Fruits, di cui Warhol stesso descrive la realizzazione nei suoi diari, a dieci anni dall'attentato subito per mano della femminista Valerie Solanas. In mostra anche una serie di Dollars Bills di varie misure e poi ancora Fish, Candy Box, Drag Queen, Kiku, Dress e Camp Bell Box, oltre a molte cover discografiche, numeri di interviewe, la rivista fondata da Warhol a New York ed altri oggetti divenuti opere d'arte dopo essere passati dalle sue mani. La mostra ha già toccato città come Monte Carlo, Lugano, Andorra, Barcellona, Spoleto, Trieste, Cordoba, Palma de Mallorca, Pescara, Taipei e Caosyung nella Repubblica di Taiwan, San Marino, Ascoli Piceno, Aosta, Bologna, Dusseldorf. Adesso l'appuntamento è a Parlemo, capitale della cultura 2017. In mostra a Palazzo Sant'Elia anche le immagini di alcuni documenti personali di Andy Warhol, dal passaporto ad una delle sue prime pagelle, il foglio di ricovero ospedaliero dopo l'attentato, alcuni strumenti di lavoro e diversi preziosi libri, come l'Index e Boock, firmati dallo stesso Warhol. Mostra Warhol, orari e biglietti orari, da martedì a venerdì 9.30-18.30. Sabato e domenica dalle 10 alle 19, weekend delle vie dei tesori. Chiuso il lunedì. Dal 30 ottobre, la mostra resterà aperta dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.30. Il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Chiuso il lunedì. Biglietti, intero 6 euro, ridotto, 5 euro, over 65, gruppi, minimo 15 persone. 3 euro, scolaresche e nel periodo delle vie dei tesori.